A testa e cuore incontriamo Antonella Napoli, giornalista, scrittrice, esperta soprattutto della realtà africana che è un continente con tante sfaccettature da capire e forse anche da vivere, da interiorizzare. Per questo con lei dialogheremo e cerchiamolo di capire perché questo interesse di una giornalista in un continente che è difficile da abbordare, da conoscere e poi anche le novità che sono legate anche a ultimi scritti di Antonella, in particolare sul Luca Attanasio, il delitto, la strage che c'è stata perché tre morti, Luca Attanasio, Vittorio Iacovaci e Mustiafa Milambo, una situazione tragica che abbiamo cercato, ha cercato Antonella di approfondire. Perché questo interesse per l'Africa? Un po' ho sempre amato, io amo molto viaggiare, quindi ancora prima di intensificare la mia attività professionale i viaggi più importanti li avevo fatti in Africa, ero proprio innamorata dell'Africa. Poi nel 2005 c'è stata un po' una svolta professionale per me ed è stata legata appunto all'Africa perché per Vanity Fair andai a seguire un importante programma di aiuto alimentare in Darfur, una regione del Sudan che stava vivendo uno dei più gravi conflitti che poi è stato identificato come genocidio. L'ex presidente dittatore Omar Hassan al-Bashir è ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio per quel conflitto che ha causato 400 mila morti, 2 milioni e mezzo di sfollati. Vi dicevo appunto, veniva avviato questo progetto, c'era questo progetto del World Food Program che vado a seguire e lì mi ritrovo davanti quell'Africa che non viene raccontata o comunque che non veniva raccontata fino in fondo. Mi sono trovata ovviamente anche di fronte agli stereotipi africani, bambino scheletrico col pancino gonfio, ma ciò che più mi ha colpito sono state le donne, le donne vittime di stupro utilizzato come arma di guerra, con gli occhi sbarrati, donne bellissime, ma che dentro avevano ancora una piccola fiammella di speranza e ho sentito il bisogno di raccontarle e di fare anche qualcosa di più. Per entrare in questo mondo così particolare che è quello africano vediamo anche alcune immagini, seguiamo un video che mostra Antonella proprio in quei luoghi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tante informazioni che bisogna conoscere per capire l'Africa, luoghi che hanno panorami mozzafiato ma anche tanta sofferenza che si incontra. Come colleghi tutto questo al tuo lavoro giornalistico? Cos'è più importante conoscere e dire dell'Africa? Innanzitutto è importante andare. In questo caso grazie all'OIM ho organizzato questo passaggio sulle orme dei migranti che dal Sudan attraverso l'Egitto cercano di arrivare in Libia per poi arrivare in Europa. Per capire fino in fondo, per svelare anche verità che vengono in qualche modo occultate e cioè quella rotta non è chiusa come vogliono farci credere. Bisogna andare sui posti. non è semplice perché spesso si deve entrare in meccanismi che hanno un radicamento tale che non è semplice. non è semplice riuscire a sfondare quel muro, quella volontà di oscurare determinate situazioni vuoi perché ci sono interessi politici, vuoi perché un certo tipo di informazione non deve passare. Io cerco di farlo perché, attenzione, non è che io sia la più brava o sia un'eroina, anzi noi giornalisti non siamo eroi, però semplicemente io ho sempre avuto questo pallino, io ho studiato profondamente Joseph Pulitzer, il giornalismo che voleva, che consigliava Pulitzer, il più grande maestro di giornalismo che sosteneva, il quale sosteneva che un giornalismo fedele a suo scopo, a se stesso, non si occupa solo di come stanno le cose ma di come dovrebbero essere. Ecco io semplicemente cerco di fare questo, di fare il mio mestiere. Certo, un giornalismo che vede, osserva, racconta, ma poi cerca anche di impegnarsi per promuovere il cambiamento e questa forse è una vocazione di fare notizia, ma non tanto per la notizia quanto per ciò che far conoscere permette poi di mettere in moto e cercare un cambiamento. Ti sono venute in mano delle situazioni, sei venuta a contatto delle situazioni che vuoi mettere soprattutto in evidenza e sulle quali bisognerebbe riflettere di più? Assolutamente, ad esempio c'è la vicenda di Miriam Ibrahim, la donna condannata a morte in Sudan per apostasia e considerata adultera perché essendo figlia di un musulmano e di cristiano ortodossa era tenuta per linea paterna ad essere musulmana. Però lei che cosa aveva fatto? Aveva sposato un cristiano e questo dopo una denuncia di un familiare l'ha portata all'arresto ed era incinta all'ottavo mese, condannata appunto a morte. Nel momento in cui le è stato chiesto di ripudiare, di abbiurare e tornare sui suoi convincimenti, lei ha detto di no e quindi è stata confermata questa condanna. Che cosa è successo? Io ho scoperto la vicenda e l'ho raccontata. Anche in quel caso non mi sono fermata solo all'impegno giornalistico o avendo io un rapporto molto stretto, solido con Amnesty International abbiamo avviato una campagna, una campagna per raccogliere firme, per chiedere la sua liberazione che tra l'altro è stata rilanciata da Avvenire che uscì con un editoriale per salvare Miriam. A livello è scoppiato poi un caso internazionale, addirittura Cameron uscì con un suo editoriale, una sua, all'epoca era il primo ministro del Regno Unito e sono state poi raccolte tipo due milioni di firme, c'è stata tanta pressione, il coinvolgimento diretto del governo italiano si è riusciti ad ottenere che è stata sostanzialmente annullata la sentenza di primo grado, lei però era in pericolo perché gli estremisti la vedevano come un simbolo da eliminare, quindi si è riusciti ad ottenere che grazie a un volo di Stato arrivasse in Italia e per poi andare negli Stati Uniti di cui è cittadino il marito e ha incontrato anche Papa Francesco, Papa Francesco nell'incontrarla, tra l'altro ne abbiamo parlato nel viaggio che abbiamo fatto insieme, che ci ha portato in Congo e in Sud Sudan, perché parlando un po' delle cose che facevo, gli ho ricordato di questa vicenda e lui le disse, tu sei stato un esempio per tutti i cristiani, anche per me. Quindi delle storie, degli incontri, delle persone che poi rivelano una ricchezza umana e anche una ricchezza di problemi da affrontare. Assolutamente sì, perché parliamo dei cristiani, della persecuzione dei cristiani, che è un problema ancora molto presente, molto semplice. Un problema che è affrontato e approfondito con competenza giornalistica e anche competenza sui luoghi, sui fatti, è quello riguardo al delitto di Luca Attanasio, di Vittorio Iacovaci e dell'autista Mustafa Milambo, che è l'opera che hai presentato in questo periodo, proprio nel secondo anniversario dei fatti, le verità nascoste del delitto Attanasio. Che cosa affronta questo tuo libro e che cosa cerca di far conoscere all'opinione pubblica? Semplicemente porta alla luce informazioni, fatti, testimonianze che sono rimaste in un cono d'ombra, con un lavoro di oltre due anni, anche presenza sul terreno. Io sono stata, parlo negli ultimi due mesi, due volte in Congo e ho messo insieme sia i fatti da me raccolti, le testimonianze da me raccolte, con i riscontri dei documenti, degli atti e delle inchieste giudiziarie. Ci sono soprattutto tre elementi importanti di cui bisognerebbe tenere conto, perché purtroppo io ritengo che al momento non ci sia ancora un percorso che possa portare a una verità certa. Mi auguro di essere smentita, però ad esempio io ho raccolto testimonianze di persone che erano sul posto che sostengono che il comando che ha agito fosse lì già dal giorno precedente. Ripeto, cose che sono anche riscontrate negli atti giudiziari. Ci sono stati dei ranger che erano sul posto alle 7 di mattina, che sono stati sconsigliati di stare sul posto per dei lavori, perché appunto stavano per accadere dei fatti, accadimenti gravi che non gli avrebbero permesso di fare nulla. Ripeto, ricostruiamo velocemente la vicenda. L'ambasciatore Luca Tanasio si trova nell'est del Congo, a Goma, perché prepara una visita in un luogo dove c'è in corso un programma di aiuto, del World Food Program. La mattina si prepara il convoglio, cioè c'è la sua macchina con la sua autovettura ovviamente adatta alla strada da fare e un'altra di scorta o comunque due autovetture che partono. E poi cosa succede? Succede che c'è un'imboscata, vengono fermate queste auto, vengono presi e portati via, un primo scenario sostiene che si fosse trattato di un tentativo di rapina, che poi è finita in un rapimento perché non avrebbero avuto con sé soldi che potevano accontentare questi criminali. Quindi li volevano portare nella boscaglia, nella foresta per poi chiedere un riscatto e quindi fare soldi. Sostanzialmente un'azione criminale così estemporanea. Però a un certo punto c'è stato l'intervento di militari, c'è stato un conflitto a fuoco e in quel conflitto a fuoco sono rimasti vittime Attanasio e Iacovaci e l'autista era già stato ucciso prima, nel momento in cui è stato tra l'altro senza motivo, nel senso che a un certo punto si stavano muovendo, una delle cose che ho documentato, si stavano muovendo e hanno sparato addosso a questo autista e a un funzionario del World Food Programme che è rimasto solo ferito. Milambo invece è morto sul colpo. E quindi vi dicevo invece che secondo quello che hanno raccontato anche questi ranger, oltre alla gente di Kikumba e del villaggio, questo comando era presente già dal giorno prima, quindi non sarebbe stato un atto estemporaneo. Perché loro arrivati alle 7 di mattina, la gente già li avvisava, li avvertiva di stare attenti perché stava per succedere qualcosa di grave. Quindi qui è in gioco, abbiamo capito, una situazione molto delicata perché si tratta dell'uccisione di un ambasciatore italiano in funzione, quindi un rappresentante ufficiale dello Stato italiano e poi la sua guardia del corpo, il carabiniere Vittorio, anche l'autista, quindi una situazione molto delicata per cui sono in corso delle indagini e delle inchieste giudiziarie sia a Roma, che ha aperto il caso, che a Kinshasa, ovviamente la capitale della Repubblica Democratica del Congo. Continueremo dopo una breve pausa ad approfondire questa tematica che è anche contenuta nel libro molto interessante di Antonella Napoli, Le verità nascoste del delitto Attanasio. Siamo sempre con Antonella Napoli, giornalista scrittrice, stiamo affrontando un po' il contenuto del suo ultimo libro che è Le verità nascoste del delitto Attanasio. Volevo chiederti Antonella, questa vicenda così tragica e così dolorosa per la famiglia, per chi è coinvolto, come è legata anche alla situazione di guerra continua o comunque di insicurezza dell'Africa, in particolare di questa regione dei Grandi Laghi? Quello che è accaduto è sicuramente frutto della grande stabilità che c'è, in particolare nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Parliamo di un'area vastissima, ricca di risorse, dove si sono censite almeno 150 di sigle di gruppi armati che si contrastano, che in qualche modo cercano di mantenere il controllo di alcune zone ricche di risorse minerarie e che alimentano poi questo conflitto. In particolare da maggio dello scorso anno è stato dichiarato lo stato di emergenza in quell'area, c'è un tasso di instabilità talmente grave da permettere addirittura alla formazione quella più considerata più pericolosa che è l'M23, il movimento 23 marzo filo ruandese, di spingersi di arrivare a 20 chilometri da Goma, dalla capitale, tra l'altro avevano conquistato anche proprio il territorio di Chikumba dove è avvenuto l'omicidio a Tanasio e a Covacci Milambo e tuttora c'è uno scontro che vede coinvolte anche più nazioni, più paesi. C'è appunto l'intervento delle forze militari ugandesi, c'è ovviamente coinvolto il Ruanda con la presenza di questi ribelli e c'è anche la forza della comunità africana dell'Africa centrale guidata dal Kenya che ha mandato proprio i militari lì sul posto. Quindi una situazione molto complessa e quello che forse può interessarci è il legame che questa realtà sempre in situazione di conflitto può avere al di là o anche insieme all'avvenimento tragico di Luca Tanasio ha un riflesso anche per la politica internazionale e per l'Italia perché non siamo così distanti e non siamo così distaccati da questa realtà. Quali sono i riflessi che questa situazione di conflitto ha con il nostro paese, con la nostra politica, con la nostra realtà? Un elemento chiaro è l'importanza geopolitica di questa realtà perché ci sono interessi sia di multinazionali estere, quindi paesi che in qualche modo cercano di guadagnare spazio su queste terre. È definito il Congo lo scandalo geologico mondiale perché sembra che lì sia concentrata tutta la ricchezza geologica o gran parte della ricchezza geologica del mondo. Parliamo di coltan, oltre ovviamente le risorse minerali più conosciute, oro diamanti, però coltan, cobalto, quello che poi è l'oro vero del multimediale di oggi, tutto ciò che ci aiuta, che ha gli elementi base per telefonini, per le macchine elettriche, quindi è sicuramente un'area che vede il contenzioso di più attori internazionali. L'Italia in qualche modo, più che sulla Repubblica Democratica del Congo stava cercando di ottenere maggiori risorse da Congo-Brasavil per quanto riguarda le risorse energetiche, perché noi abbiamo avuto questa grande emergenza dovuta al gas che ci è avvenuto meno, il gas russo e quindi in qualche modo stava cercando di tessere dei rapporti, sono stati fatti anche degli incontri, anche con il Presidente Cisekedi, per cercare di capire se sono strade percorribili, quelle del territorio congolese per avere degli approvvigionamenti, per diversificare le risorse, le fonti di approvvigionamento. E in questo penso che Luca Tanasio era una persona che stava lavorando in questa direzione, aprire comunicazioni, aprire possibilità e poi l'aspetto che forse viene messo giustamente in evidenza, la sua capacità umana anche di far fronte alle esigenze della popolazione più umili, quindi non soltanto i grandi progetti economici o di rapporti bilaterali, ma anche l'aiuto a chi ne ha più bisogno. In questo forse ci puoi dire qualche cosa anche della presenza degli organismi umanitari, delle realtà che aiutano l'Africa, in particolare il Congo. Com'è questa presenza? C'è una presenza abbastanza radicata e anche di tanti missionari italiani, ad esempio. Luca Tanasio, una delle prime cose che ha voluto fare arrivando a Kinshasa, arrivando come capomissione in Congo, è stato in qualche modo incontrare queste realtà e anche metterle insieme, fare in modo che si creasse una sorta di rete. E ci sono tantissime organizzazioni locali e lui in particolare ha fatto una cosa bellissima, perché insieme a sua moglie ha creato un'associazione che si occupasse, che intendeva occuparsi dei bambini di strada, che è uno dei fenomeni più gravi, che soprattutto a Kinshasa si censiscono tra i 35.000 e i 40.000, tu che sei un conoscitore, che conosci bene quelle zone, puoi confermarmi se sono dati reali, 35.000 e 40.000 bambini di strada. Sono bambini che sono abbandonati dalle famiglie per tante ragioni economiche, non solo che si ritrovano a dover vivere così per le strade e poi creano delle situazioni di violenza, ovviamente perché crescendo si devono organizzare e diventano quelli che sono chiamati gli sciege per le vie di Kinshasa e fanno paura. E sono anche una fuscina, un serbatoio da cui i gruppi armati cercano di tirare fuori dei bambini soldato, che poi è stato uno degli argomenti che mi hanno legato a Luca, perché conoscevo personalmente, per me prima che ambasciatore, l'ambasciatore a Tanasio era Luca e proprio grazie alle formazioni che lui è riuscito a farmi avere, i contatti, io sono riuscita ad arrivare a fatti, dati, informazioni, persone dove quasi sicuramente io non avrei avuto accesso, alle quali non avrei avuto accesso, quindi questo ancora una volta fa capire quanto lui fosse permeato, quanto per lui fosse importante. Certo, c'è una realtà nella formazione di Luca, una solidità umana e cristiana perché si sono svolte anche in questi giorni dell'anniversario degli avvenimenti, celebrazioni liturgiche, una celebrazione con l'arcivescovo di Milano con una bellissima omelia che metteva in luce proprio Luca come amico del bene, come persona che si è giocata veramente per il bene e questo poi a volte è difficile raccontarlo, si fa fatica a tenere viva l'attenzione su chi fa il bene, però il giornalismo che tu cerchi di vivere va in questa linea, parliamo ad esempio del tuo impegno con articolo 21, quindi la necessità di tenere viva la libertà di stampa e anche una stampa e una comunicazione buona legata anche alla carta di Assisi, che cosa ci può dire di questo e della tua personale esperienza? Beh sì, la carta di Assisi è un percorso che ci vede coinvolti in prima linea come articolo 21, ma che ha visto poi sia il Sacro Convento di San Francesco che tutte le più importanti comunità religiose presenti in Italia, dalla comunità ebraica alla chiesa evangelica, per stilare una sorta di vademecum per l'informazione giusta, corretta, parole e non pietre, l'importanza di usare un linguaggio e un'informazione che non crei contrasti, che non alimenti fenomeni d'odio che purtroppo vediamo quotidianamente, sono entresi i social, ma gli stessi alcuni organi di informazione fomentano queste realtà, quindi l'impegno di articolo 21, appunto questo percorso che proprio in questi giorni, proprio ad Assisi, sta tenendo un importante momento di riflessione per ribadire e portare avanti questo progetto. Quindi questo impegno per una informazione corretta che porti anche a conoscere i fatti nel modo appropriato e l'attenzione all'Africa, sono un po' i tuoi due punti di riferimento. Il tuo impegno con questa piattaforma Focus on Africa, in che cosa si esprime soprattutto? Focus on Africa è sostanzialmente la sintesi di 34 anni di mestiere, perché io ho iniziato giovanissima, ho messo il piede in una radio a 17 anni la prima volta, contro radio si chiamava questo emittente e da quel momento io ho iniziato un percorso che poi è mutato nel tempo, portandomi appunto come dicevano nel 2005 a cambiare proprio un modo di fare il giornalismo. C'è un caro amico che è proprio portavoce di Amnesty International, che tra l'altro è stata la persona che mi ha letteralmente salvata in uno dei miei viaggi, a un certo punto io sono stata sequestrata in Sudan dai servizi di sicurezza e quando mi sono resa conto di quello che mi stava succedendo avevo mandato a lui un messaggino e lui ha dato subito l'allarme e quindi si è risolta in tempi brevi quella vicenda lì, che è Riccardo Onori, che dice tu non sei una giornalista, sei una giornalista giornalista, ma sei anche una giornalista attivista perché ti impegni, fai in modo appunto ci provi a cambiare le cose. Forse non è tanto giusto perché un giornalista dovrebbe in qualche modo mantenere una sorta di equidistanza, però io ho fatto una scelta. Focus on Africa è la prima rivista italiana di estrazione editoriale pura, un'iniziativa editoriale pura, quindi non nata come media legato a ambienti missionari cattolici, ce ne sono tante di riviste che parlano di Africa, che fanno molto bene, poi ci sono trasmissioni tv come, ecco, emittenti come la vostra, però questa è la prima iniziativa nata proprio e proseguita come editoria pura, che sia un sito online che un magazine cartaceo, l'online è anche in inglese e francese, e diamo voce in inglese. Perchè noi abbiamo tantissimi collaboratori che sono sul posto e ovviamente ad analisti africani, ma poi ci sono tanti, appunto, lo stesso Riccardo Nuri che è una delle nostre firme editorialisti di punta e cerchiamo di raccontare un'Africa al di là degli stereotipi, perché poi è questo il problema. Quei pochi spesso che si occupano nel mainstream di Africa spesso lo fanno con un linguaggio, voglio dire preparazione, però non adeguato. Quindi seguire Antonella Napoli, vedere le sue produzioni giornalistiche, i suoi libri ci permette di avere uno spaccato della realtà africana che è molto difficile da capire perché è molto ampia e ci aiuta a capire come andare anche al di là della semplice informazione, per capire cosa noi possiamo fare e come noi possiamo capire diversamente questa realtà che a volte c'è molto vicina. Certo, non a caso io parlo, parliamo di Afriche, non solo di Africa, perché è un continente così complesso, parliamo di 54 stati, c'è una sprequazione tra il nord e il sud, la verità climatica di territori. Sì, quindi non è semplice parlare di Africa, purtroppo non c'è nemmeno grande interesse a parlarne, però visto che c'è una crescita esponenziale di questo paese, alcuni analisti sostengono che possano passare dal miliardo e tre attuali entro fine secolo a quasi 4 miliardi e con una crescita economica potenziale, un PIL potenziale. Prima del Covid era il continente con il più alto tasso di crescita, quindi le potenzialità delle Afriche sono immense. E questo è il bello dell'umanità che si interagisce un continente con l'altro, una nazione con l'altra, conoscere questa realtà ci permette di vivere meglio e di accogliere anche meglio realtà che sono senz'altro diverse da noi, ma non così distanti, quindi vanno capite, amate e poi vissute bene. Grazie Antonella Napoli Grazie a voi Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.